Insomma, la Briantea è un pezzo di Lorenzo che comunque non aveva, che gli mancava. Un pezzo grosso, con dentro tante cose, che Lorenzo non aveva. E quindi adesso lui ha anche questo. Ciao, sono Elena. Ciao, sono Corrado. Noi siamo i genitori di Lorenzo, che frequenta Briantea nella sezione basket e atletica. L'atletica da un paio d'anni, da due anni. Diciamo che conoscevamo persone che seguono e prestano le loro attività e il loro tempo in Briantea. Solo che a convincere Lorenzo, a portare Lorenzo, ci abbiamo messo un momentino. Non è stata proprio una cosa immediata, però siamo riusciti a spingerlo. La spinta definitiva gliel'ha data la sua mamma e siamo riusciti a portare... Come sempre. Come sempre, esatto. Diciamo così, il concetto. Però è vero che a Briantea è un momento che Lorenzo vuole condividere più con suo papà. Esatto. Quindi io sono un po' esclusa dalla partecipazione a gare, corse o quant'altro. Con me, commenti, situazioni, stati d'animo, commenti. Queste sono tutte cose che condivide con me. Dalle prime partite in cui lo vedevo che sembrava comunque un ragazzo venuto da un altro pianeta in mezzo al campo che si girava e capiva dove doveva andare, doveva tirare, come doveva muoversi, fino a una partita, una delle ultime, prima che comunque ci fosse questo problema, in cui ha giocato e a un certo punto aveva palla, gli hanno fatto fallo, è andato in area. Gli hanno fatto fallo, gli hanno dato due tiri liberi. Gli ha messi tutti e due, si è girato e mi ha guardato in tribuna. Dove per dire? Dove per dire, sei contento? Il momento in cui ha iniziato a sentirsi un atleta a Briantea, e quindi non era più la scelta della mamma o del papà, che è stato, è vero, il via di questo percorso, di questa nuova avventura per lui, perché se la mamma non decide, lui è ancora lì sul divano. E quando poi ha iniziato a conoscere, quando ha iniziato a conoscere l'ambiente, le figure, le persone, quando ha capito dov'era, che era tranquillo, a suo agio, che nessuno gli metteva pressione, che... Quando ha trovato l'agio e la confidenza. L'agio e la confidenza con l'ambiente nuovo e con le persone nuove. Per cui, comunque, lui è cresciuto anche molto, finta fino adesso, ma ha avuto comunque una crescita nella sua autostima innanzitutto. Nella sua autostima e poi nella capacità di confrontarsi e di rapportarsi con gli altri ragazzi e con, come diceva prima, tutte le varie persone che stanno dentro in Briantea e attorno in Briantea. Per cui, per lui è stato veramente... È un importante pezzo di crescita, veramente, questo aspetto. Lo sport, ma anche stare insieme alle persone che con lui condividono lo sport. Come dico io, un'occasione di integrazione spontanea. Dopo cerca sempre di rifuggere un po' all'impegno. Ha delle tecniche illusive fantastiche, Lorenzo. Per qualsiasi cosa che richieda troppa fatica. Però in realtà anche su quello... Col tempo, anche andare all'allenamento, prendere e alzarsi la mattina alle otto per fare la gara, per andare alla partita, dopo le prime iniziali resistenze non è stato più un problema. Quindi è davvero il piacere anche per lui di andare ad allenarsi, di andare in pulmino, di andare a giocare, di andare a correre. Insomma, la Briantea è un pezzo di Lorenzo che comunque non aveva, che gli mancava. Un pezzo grosso, con dentro tante cose, che Lorenzo non aveva. E quindi adesso lui ha anche questo. Briantea è uno spazio in cui può muoversi con un po' più di autonomia. e con i confini forse anche un po' più larghi di quelli che gli consente la famiglia e la cerchia parentale. Si confronta con persone nuove, persone diverse, ragazzi con difficoltà diverse dalle sue e impara a rapportarsi anche con chi non ha dialogo, non ha la parola, piuttosto che... con tutti, con tutti. Non... Sto cercando di lavorarlo, questo concetto. Non c'è una differenza, una difficoltà che fa la differenza. Non so come dire. La difficoltà non fa la differenza. Ecco, forse questo è il concetto. E riusciamo anche a superarla, la difficoltà. Certo, con l'aiuto, con il sostegno, con allenatori, volontari e tutta la rete di sostegno e di guida che viene data a questi ragazzi. Ma poi il loro materiale se li devono gestire in autonomia e così fa anche a casa. Sentiamo, sento come lui, è molto importante, sento importante quel rapporto che abbiamo, che lui ha con me in generale, quando guardiamo lo sport o quando parliamo dello sport e in particolare quando comunque lui pratica il suo sport con Briantea. perché è lui comunque uno dei legami più forti che lui ha con me, ma poi parlando non solo dello sport, ma parlando anche di impressioni, sensazioni, è proprio l'ambito sportivo. e anche lo manifesta molto durante o dopo le sue prestazioni, le sue gare con la campestre, piuttosto che col basket. comunque mi cerca, mi chiede com'è andato, mi chiede se gli sono piaciuto, mi dice che è stanco, mi dice che si è impegnato. È comunque una cosa che abbiamo, che lui ha con me in modo particolare. Prima dicevamo che comunque in queste situazioni preferisce la mamma, anche se non c'è, non fa niente. È giusto così? È una cosa mia e sua, è una cosa mia e sua o sua e mia, e chiaramente per me è una soddisfazione importante. Quello che può dare un ambiente come Briantea, quindi, è l'essere tranquilli nel lasciarlo andare. Quello che dicevo prima, comunque è un ambiente in cui si sa che confini, le protezioni ci sono, protezioni di confine ci sono. E un po' di ossa deve farsi anche lui. Troppo iperprotetti, ipertutelati, no, si va incontro alle necessità, si verifica e si interviene sulla difficoltà, ma la vita non è fra quattro mura con la mamma sempre dietro il collo come un gufo. È giusto che le esperienze vengano vissute. Briantea consente di vivere esperienze che altrimenti Lorenzo non potrebbe fare. Grazie a questo, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti